Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo una lente di ingrandimento classica con manico. È una lente di diametro 75 mm ed è utilizzata per lettura e per osservare particolari. È una delle lenti più semplici, è sempre esistita la lente classica con impugnatura ed è un supporto per leggere o per osservare piccoli caratteri, piccole scritte. Nella scelta della lente bisogna sempre tenere presente che una lente di diametro elevato ingrandisce poco, mentre una lente di piccolo diametro ingrandisce di più. Quindi non dobbiamo farci ingannare dal fatto che una lente sia molto grande, sia di diametro elevato, poiché ingrandirà poco. Teniamo presente questa caratteristica nella scelta della lente. grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. Saluti. Grazie. 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 Grazie.